Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrò come realizzare questa semplicissima giacchettina per bimba taglia 12-14 mesi, quindi un anno, un anno e qualche mese. Per realizzarla io ho deciso di utilizzare il filato della Lise Diva che è 100% microfibra e ho utilizzato un gomitro da 100 grammi, utilizzando tutto il gomitro e lavorando con l'uncinetto del numero 3. In descrizione, come sempre, vi lascio il link del sito web uncentando con i filati da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. E io penso che per questo periodo qui, verso settembre, fare una giacchettina per bambina in microfibra è il filato perfetto, perché non è né troppo pesante né troppo leggero. Per quanto riguarda la lavorazione, come potete vedere, è veramente molto semplice perché si tratta di tre giri semplicissimi, che sono due giri di maglie alte e un giro di una catenella separata da una maglia alta, separata da una catenella. Quindi una lavorazione veramente semplice. Io nel corso del video cerco di dare più informazioni possibili riguardanti la misura, tipo la misura in totale della giacchettina, partendo da qui, è di 53 cm. La misura per la parte poi separata davanti, per ogni parte separata davanti, è 12 cm, che poi si va a stringere per creare questo scollo a V. Vi dico anche quanto è alto lo scalfo, quindi sono 7,5 cm. Vi dico quanto è lunga anche la manica, che è circa 20 cm. Quindi cerco di darvi tutte le indicazioni possibili in modo tale che se avete un filato diverso dal mio, volete usare, non lo so, la... la Miss Baby Soft della Miss Tricot, o il Bebby Micro sempre della Miss Tricot, o comunque un filato tipo il cotone, il Tricot 5, il Tricot 8, potete sempre capire più o meno le misure che vi servono per poter realizzare questo golfino, che ripeto, taglia 12-14 mesi, quindi un anno, un anno e qualcosa. Una volta fatto, quindi io ho fatto un unico lavoro, partendo dal basso, ho diviso poi la parte dietro, dalle due parti avanti, andando a fare lo scollo a V. E una volta fatto cucite le spalle, sono andata a fare le maniche con lo stesso punto. Alla fine ho rifinito la parte di sotto e la parte quindi aperta della giacchettina con un giro di maglie base, sempre con il filato Micofibra, ma con il perla che mi era avanzata dal progetto precedente. Alla fine, per impreziosire un po' la giacchettina e farla un po' ancora più sciccosa per una bambina, ho aggiunto questo fiorellino, che nel video tutorial non vi faccio vedere come si fa, perché è un fiorellino che feci veramente tanti anni fa, ma qualsiasi fiore che voi decidete di fare con l'uncinetto va benissimo per se volete abbellire un po' il vostro golfino. Ripeto, io per fare tutto ho utilizzato un gomitolo da 100 grammi, me ne ho avanzato giusto un pochettino, quindi se dovete fare anche un po' più grande, quindi per una bambina di un anno e mezzo, secondo me con 100 grammi comunque riuscite a terminare. Mentre se dovete fare già un golfino per una bimba taglia a due anni, a quel punto io vi dico che dovete andare a prendere sicuramente un gomitolo in più. E in quel caso le misure cambiano parecchio, io nel video tutorial non ve l'ho fatto, però se ci sono molti di voi che vogliono un golfino taglia a due anni, nel prossimo mese, diciamo già a settembre, provvederò a fare un golfino anche per taglia a due anni. Detto ciò, spero che anche questa piccola creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete sia come Elsa Faccio e oppure sulla pagina Uncentando con i Filati. E potete taggare, se avete comprato il filato sia sul sito o tramite il negozio Merceria Coletti, potete taggarci anche sulla pagina Facebook Merceria Coletti. E come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra giacchettina per bambina io utilizzerò il filato Alice Diva che è 100% Mico Fibra. Il colore che ho scelto io è il rosa antico, che se ricordate ho utilizzato proprio per il video precedente per fare la mia ultima maglia. Allora, lavorerò con l'uncinetto il numero 3 e vi dico già che lavoreremo dal sotto e dovremo andare a realizzare un unico pezzo che poi divideremo dalla parte dietro e dalle due parti avanti. Io per realizzare il vero e proprio giacchettino monterò 111 catenelle per un totale quindi di circa 53 cm. Questo è per una taglia 12-14 mesi. Se la dovete fare un po' più larga, tenete presente che la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 2, a cui poi serve una catenella per poter avere l'inizio uguale alla fine. Quindi mi raccomando, se dovete farla un po' più larga, invece di 111 potete andare a montare 115-117. Tenete presente quindi che la lavorazione deve essere un multiplo di 2 a cui aggiunge una catenella appunto che vi serve per avere l'inizio uguale alla fine. Io in questo piccolo campioncino che vi faccio ho montato 11 catenelle, appunto 10 multiplo di 2 più una catenella che ci serve appunto per avere l'inizio uguale alla fine. Sono tre giri veramente semplicissimi e per questo che ho montato così poche catenelle e si va a fare in questa maniera. Si realizzano due catenelle che sono a sa prima maglia alta, salto la prima delle mie 11 catenelle, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Bene, il primo giro consiste nell'andare a fare una maglia alta in ogni catenella, per un totale, nel mio caso, di 11 maglie alte. Quindi vado a fare, sono già la quarta, quinta, sesta, settima, ottava, nona, decima, e undicesima. Quindi il nostro primo giro consiste ad andare a fare una maglia alta in ogni catenella, per il totale delle catenelle che abbiamo montato. Nel campione sono 11, quindi ho 11 maglie alte, invece nella lavorazione per le proprie ne avrò 111. Secondo giro, semplicissimo anche questo, andiamo a fare 3 catenelle che sono a sa prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta, per un totale, quindi, nuovamente, di 11 maglie alte. Quindi continuo a lavorare in questa maniera, una maglia alta sopra ogni maglia alta, per un totale, quindi, scusate, devo tirarmi il filo, intanto, di 11 maglie alte, terminate le 11 maglie alte, l'ultima la sono andata a fare nella terza catenella che qui voleva la mia prima maglia alta, giro il lavoro e vado a fare il mio terzo e ultimo giro, anche il che questo è semplicissimo, e andiamo a fare 3 catenelle che sono a sa prima maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia alta, entra una successiva e vado a fare una maglia alta. Ancora, catenella di separazione, salto una maglia, entra una successiva, vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia, entra una successiva e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia, vado una successiva e faccio una maglia alta, catenella di separazione salto una maglia entrò nella terza catenelle vado a fare una maglia alta quindi questi sono i tre giri che andremo sempre ripetere quindi come vi ho detto la lavorazione è veramente molto semplice perché deve essere una giacchetta semplice che il colore quello che tra risalto non tanto il tipo di lavorazione proprio perché deve essere una cosa facile che si può realizzare al momento quindi secondo me in una giornata riusciamo a completare tranquillamente il giacchetto dato che comunque si tratta di un giacchetto taglia 12 14 mesi vi faccio solo rivedere quando dovete andare a fare il primo giro dovete andare a fare 3 catenelle quindi una due tre che equivalgono la nostra prima maglia alta una maglia alta nell'archetto di una catenella e di nuovo una maglia alta nella maglia alta una maglia alta nell'archetto di una catenella e così si ricomincia il nostro primo giro io adesso come vi ho detto lavorerò su 111 catenelle che equivalgono a 53 centimetri di circonferenza e vi tirò alla fine quante volte ripetuto il motivo e poi vi farò vedere come dividere la parte dietro dalle due parti avanti e come andrere ad andare a realizzare lo scollo avviso davanti allora io ho ripetuto i nostri tre giri per un totale di una due tre quattro volte terminando sempre con il giro di maglie alte a tenate una catenella a questo punto andiamo a mettere i marcatori per dividere le due parti avanti la parte dietro del giacchino e iniziare a fare una sorta di scollo per la giacchetta e per mettere i marcatori io sono andata a contarmi i miei quadratini di maglie i miei quadratini di una catenella e ho fatto in questa modo ne ho messi 14 avanti e nel quindicesimo messo il marcatore stessa cosa da quest'altro lato 14 amanti marcatore dietro quindi ne ho 14 14 avanti uno per marcatori e in mezzo ne ho 24 mi sembra ricordare 1 2 3 4 5 6 7 8 no 15 12 3 4 8 15 6 7 18 19 20 21 22 23 24 25 scusatemi a questo punto se possiamo iniziare a fare la nostra il nostro scollo a per chi me lo chiede dal dalla scalfo in giù io ho lavorato per circa 10 centimetri mentre per quanto riguarda il lato qui della della giacchetta è 12 cm quindi da qui al marcatore sono 12 cm mentre dal marcatore in giù sono 10 cm questo per regolarvi sempre sulle taglie se state facendo la mia stessa taglia ma con un filato diverso o se state facendo una taglia in più a questo punto possiamo andare a fare il nostro primo giro come vi ho detto faremo una sorta di scollo a b quindi andremo a fare già delle diminuzioni e andremo a fare in questa maniera faremo soltanto due catenelle invece che le solite tre perché vale come se fosse una maglia alta non chiusa prendiamo il filo andiamo a lavorare come facciamo normalmente quindi adesso devo fare il nostro giro di magliette ma nell'entrata nell'archetto vado a fare una maglia alta non chiusa chiudo le due maglie alti insieme e adesso continuo normalmente quindi maglia alta dove ho la maglia alta maglia alta dove ho l'archetto di una catenella continuo così a lavorare normalmente il primo giro fermandomi qui dove ho la maglia alta prima del marcatore inizierò a fare il secondo giro senza fare naturalmente a diminuzioni quindi maglia alta e andrò da quest'altra parte vi faccio vedere direttamente quando termina il secondo giro perché ripeto io adesso faccio tutte maglie alte fermandomi qui alla maglia alta prima del marcatore inizierò facendo il mio secondo giro di maglie alte ma nel finire andrò a fare un'ennesima diminuzione quindi continuo così ci vediamo alla fine verso la fine del secondo giro sto per terminare il mio secondo giro vedete ho fatto una maglia alta sopra ogni maglia alta devo andarlo a terminare e mi ritrovo con una maglia alta ancora libera e le due maglie alte chiusi insieme e vado a fare in questa maniera prendo il filo vado la maglia alta e vado a fare una maglia alta non chiusa prendo il filo vado dove ho le due maglie alte chiusi insieme faccio un'altra maglia alta non chiusa chiudo le due maglie alte insieme ho terminato così anche il secondo giro mi giro con il lavoro e vado a fare il terzo giro che se ricorderete lo facciamo facendo o tre catenelle iniziando il giro 3 catenelle è che sono la prima maglia alta catenella di separazione si salta una maglia di base per iniziare invece dovremo fare una diminuzione quindi andremo a fare in questa maniera faremo 2 ma 2 catenelle che sono sempre la nostra prima maglia alta non chiusa saltiamo una maglia alta andiamo direttamente nell'altro e facciamo un'altra maglia alta non chiusa e chiudiamo insieme le due maglie alte catenella di separazione adesso andiamo a lavorare normalmente quindi saltiamo una maglia di base entriamo la successiva e facciamo una maglia alta catenella di separazione saltiamo una maglia andiamo in quella successiva e facciamo una maglia alta continuiamo così per tutto il terzo giro e poi riprenderemo normalmente il primo giro quindi maglia alta sopra maglia alta maglia alta all'interno dell'archetto di una catenella fino ad arrivare verso la fine dove vi farò vedere come fare un ulteriore diminuzione sto per terminare anche nuovamente il mio primo giro e vedete mi sono mi sono fermata dove all'ultimo prima del ultimo archetto di una catenella e vado a fare in questa maniera vado a fare una maglia alta non chiusa all'interno dell'archetto di una catenella prendo il filo vado dove ho le due maglie alte chiusi insieme e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa chiudo le due maglie alte quindi adesso ricomincio da capo andando a fare una diminuzione e vado a fare 2 catenelle 1 e 2 vado la maglia alta successiva faccio una maglia alta non chiusa e vado a fare un'altra diminuzione benissimo io non so se adesso farò tre o quattro motivi penso più tre perché devo arrivare ad un'altezza di almeno a 7 centimetri e mezzo massimo 8 perché comunque è la taglia di una bambina quindi alla fine vi farò sapere quante volte ripetuto un motivo va a finire pure che ne farò solo due e mezzo quindi vi dirò un po tutto una volta fatto questa cosa andremo a fare la stessa cosa anche da quest'altra parte quindi dalla parte opposta dietro invece lavoreremo normalmente andando a fare i nostri giri senza fare alcun tipo di diminuzione poi uscire ma appunto le parti avanti con la parte dietro e andremo a fare le maniche hanno mi ha detto una cosa adesso noi il terzo giro invece di iniziare dall'esterno l'abbiamo iniziato dall'interno e per andare a fare la diminuzione quando state per fate l'archetto di una catenella la maglia alta vi restano le due maglie la 2 maglie alte ossia la maglia altre due magli altri chiusi insieme quindi andate a fare in questa maniera adesso ve lo rifaccio così lo vedete anche voi vedete ho fatto la mia catenella dovrei andare a fare la mia maglia alta saltando una maglia alta e invece vado a fare una maglia alta non chiusa quindi salto una maglia alta vada una successiva e faccio una maglia alta non chiusa prendo il filo vado dove ho le due maglie alte chiusi insieme quindi saltando una maglia alta e faccio un'altra maglia alta non chiusa e poi le chiudo insieme e a questo punto mi giro con il lavoro e vado a fare normalmente la mia ennesima diminuzione quindi due catenelle entro nell'archetto una maglia alta non chiusa a chiudo le due maglie alte insieme vedete in questa maniera quindi adesso dalla fine vi dirò quanti giri ho ripetuto per fare tutto anche dall'altra parte altrimenti orremo fare uguale non vi preoccupate se qui vi sembra che non sia bella lite alineare tanto dopo uno quando a fare un bel bordino o di maglie basse o di ventagli attorno per rendere la scollatura più dritta allora per fare diminuzioni alla fine ho ripetuto il motivo due volte e mezza quasi tre diciamo che del terzo motivo non ho fatto l'ultimo giro sia quello quelle maglie alte alternate una catenella e ho fatto la stessa cosa anche da quest'altro lato dietro invece ho lavorato normalmente e sono andata poi a cucire le spalle quindi cucendo una maglia alta insieme a ogni maglia alta adesso andremo a fare le mani che io farò delle maniche lunghe e una volta terminate le maniche faremo poi un bordino intorno alla giacchetta io penso che farò un semplice bordino di maglie basse o forse inventati no ma io e bassi perché voglio che sia carino ma semplice allo stesso tempo poi quindi adesso andremo a fare le maniche del nostro cardigan il motivo sarà sempre lo stesso solo che adesso lavoreremo in tondo e non più in giri di andata e ritorno lavorerò sempre con un certo il numero tre mi aggancio nella parte sotto dello scappo della manica sia dove o la catenella di separazione quindi tra le maglie alte quindi qui mi aggancio con il filo e andiamo a fare le nostre 3 catenelle che sono la prima maglia alta di una due tre e poi andiamo a fare scusatemi in giro meglio così vedete sia spostata la telecamera andiamo a fare una maglia alta qui dove abbiamo questo frullino una maglia alta dove si incrociano le maglie alte orizzontali una maglia alta dove abbiamo la maglia alta ancora una maglia alta nel foro una maglia alta dove abbiamo la nostra maglia alta naturalmente se vedete che la maglia si allarga troppo la manica poi viene troppo larga andate a fare una maglia alta solo dove avete la maglia alto orizzontale quindi saltando il foro andate direttamente a fare la maglia alta dove abbiamo la maglia alto orizzontale l'unica cosa che dovete tener presente che dovete avere un numero di magliate pari quindi quando andremo a finire tutto il giro dovremmo contare maglie alte a fare in modo di avere un numero di pari di maglie altrimenti poi non ci verrebbe il giro con le maglie alte alternata una catena quindi io continuo così vi dirò alla fine quante volte quante maglie mi sono messo e andremo a fare poi il giri normalmente non penso che vi faccio vedere perché tanto sono semplici il secondo giro si va a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta il terzo giro una maglia alta catenella si salta la maglia di base si fa la seconda maglia alta vi farò sapere solo il numero di magliate che io ho fatto nel primo giro in modo tale da rendervi conto se avete fatto bene o se a voi vi risulta troppo stretta perché avete comunque un filato diverso e quindi dovete aggiungere qualche maglia per fare in modo che la manica non sia troppo stretta allora io ho fatto 28 maglie alte come larghezza ci siamo quindi ogni tanto ho saltato i forellini facendo la maglia alta solo dove ho la maglia alta in orizzontale diciamo che ho fatto così in modo tale da avere 28 maglie alte perché secondo me non mi stringere non mi allarga la maglia quindi è perfetta per essere la manica di una bimba di un anno naturalmente questo è con il mio filato se voi avete un filato diverso dovete regolarvi come vi ho già detto prima di quante maglie fare oppure se la bambina può un po più di un anno quindi diciamo che attorno ai 15 16 a 16 mesi allora dovete fa un po più larga allora potete andare a mettere più maglie detto ciò adesso io farò come ho detto gli semplici soliti giri quindi maglia alta sopra di maglia alta una maglia alta tenendo una catenella allora io ho fatto la manica ho fatto 20 cm di lunghezza e va benissimo per una taglia di una bimba di un anno quindi 20 centimetri ho ripetuto il mio motivo per otto volte terminando con il giro di maglie alte separate da una catenella fatto la stessa cosa anche da quest altro lato e poi sono andata a fare un semplice bordino di maglie basse intorno a tutta la maglia adesso devo soltanto sistemare ancora un po metterò un piccolo bottone qui giusto per chiudere un po il collo quando la maglietta è indossata non ho deciso di non fare nessun bordino alla manica perché mi piace che con il giro di maglie alte alternate una catenella viene questo effetto un po chiuso sul polso quindi ho deciso che non farò alcun tipo di bordino e possiamo dire quindi che la nostra giacchetta per bambina un anno è terminata grazie a tutti